Io premetto che, come già fatto nella delibera del 27 di novembre, noi siamo pienamente concordi e anzi abbiamo applaudito all'iniziativa di questa associazione privata per la costruzione di questi campi da tenese. Questo per sgomberare il campo. Comunque nella delibera del novembre, che era propedeutica a quella di ieri sera, si prevedeva la concessione in concessione de maniale, perché con parere legale del dirigente dell'ente non poteva essere fatta la concessione in diritto di superficie perché è in contrasto con le normative sugli espropri. Ieri sera sono state cambiate le carte in tavola, per cui è stata data poi la concessione in diritto di superficie per 20 anni. Questo sempre con parere positivo, però questa volta di un altro dirigente. A questo punto noi abbiamo chiesto chiarezza nell'interesse dell'associazione, dei privati, che faranno un investimento di oltre 300 mila euro per fare questi campi da tenese. Cioè, delle due luna o si può dare in concessione in diritto di superficie o non si può come era stato fatto, come era stato descritto nella prima delibera. Noi abbiamo chiesto chiarezza, se aspettato dal 27 di novembre un mese e mezzo prima di andare alla nuova delibera, eccetera, c'era tutto il tempo di chiarire tutto quanto, noi abbiamo detto aspettiamo altri 10 giorni, chiariamo tutto fino in fondo e noi siamo disponibili, come abbiamo fatto allora, a dare il nostro voto favorevole, perché siamo consenzienti all'iniziativa. Però, nell'interesse di questa associazione privata, noi vogliamo la chiarezza. Questo non si è voluto, sono andati a un voto di maggioranza e noi non abbiamo potuto far altro che a stenerci su questo. Questo è stato anche riconosciuto, la poca chiarezza, da parte del capogruppo di Viva Sansepolcro, il quale ha richiarato che effettivamente c'era poca chiarezza in tutto l'iter della pratica e che comunque avrebbe votato a favore per spirito di maggioranza. Questo poi ha scatenato le ire di altri gruppi e degli altri consiglieri.